Per il lavoro la legge di stabilità deve cambiare è la tesi di Cigelle e Cislewil che oggi dal banchetto di via 20 settembre hanno presentato la manifestazione regionale in programma sabato 14 dicembre a San Fiedice sul Panaro. Pullman in partenza anche da Piacenza e Fiorenzuola, obiettivo dei sindacati chiedere meno tasse, la rivalutazione delle pensioni e il finanziamento degli ammortizzatori sociali. Noi oggi qui siamo in piazza Piacenza come in tutta Italia perché Cigelle e Cislewil unitariamente hanno deciso di proseguire nella lotta per modificare la legge di stabilità con le nostre richieste che abbiamo già portato all'attenzione nelle settimane scorse, quindi interventi sul fisco perché crediamo che oggi bisogna introdurre una parola che è redistribuzione. Oggi in questo paese dove sta la ricchezza bisogna andarla a prendere e ridistribuirla verso le fasce più deboli, i lavoratori e i pensionati che sono quelli che di più hanno pagato in questi anni gli effetti della crisi.